Pubblicità Siamo batteri con i denti Qua Beats Beginner Studio Crazy Chic Il futuro Fai sfrecciare le biglie a tutta velocità Il mitico Po ha sempre affrontato sfide ebili Ma ora ce n'è una più grande Insegnare l'arte del Kung Fu A quattro indisciplinati piccoletti Wow, sono più bravo di quanto pensassi E difendere il cibo Sono contento di avermi trovato Kung Fu Panda le zampe del destino Vi aspetta tutti i giorni alle 7.20 E alle 13.50 Su Raigul La sua grande passione è il calcio È Jamie Johnson Sostenuto dai suoi amici e dalla sua famiglia Allora, capitano, sei pronto? Sì, non vedo l'ora Jamie è pronto ad affrontare grandi impegni e nuove sfide Con un po' di lavoro di squadra lo ripuliremo Credo che chi ti ha dato quella fascia abbia fatto un grosso errore Ho la forte tentazione di lasciare la Fenice Jamie Johnson vi aspetta tutti i giorni alle 18.50 Su Raigul Pubblicità Lo smalto applica la decorazione e asciuga Coolmaker Go Glam da Spin Master Biodegradabili nel rispetto dell'ambiente Super naturale, fatto con le mie mani Smesi e orto in serra Da Clementoni Mi sono successe troppe cose Le luci si accendono, siamo e non si fermerà Fattene qua Primo giorno di lavoro Non certo Le valutazioni saranno fatte di comune accordo Vi schiaccerò e vi Arriva la nuova stagione di Sara e Marty Ma non è l'unica buona notizia Vengo a trovarmi a Bevagna Sì, sì Ci sarà un nuovo inizio Manuel Un nuovo sogno da realizzare Io voglio diventare una musicista Ma diciamo, c'è la Bevagna, non ci sono molte possibilità Voglio frequentare un'accademia di musica a Roma E un grande problema da affrontare Oh, oh, Nicola Nicola Per Sara e Marty è il momento di mettere da parte le incomprensioni e i malumori Scoprire nuove emozioni e sogni da realizzare per diventare grandi La terza stagione di Sara e Marty Hashtag la nostra storia Vi aspetta da lunedì al venerdì alle 19.55 In prima visione, Rai Gulp Pubblicità Cosa succede nel fantastico bosco di cre... Scicca le tue unghie in tre mosse Per quanto lui ci provi Una malattia è imprevedibile Che può... C'è un passaggio Non devi andare in tribunale per sapere cosa dovrai fare Sono spassosi Buongiorno, ragazzi Divertenti Ma anche terribilmente orrendi Albain Uso le mie invenzioni solo per combattere le ingiustizie Scossa Non è colpa mia se mi sono elettrizzata Cripta E ora, partitona di paintball al cimitero Macabro Potrebbe non sembrare, ma io sto veramente gioendo dentro Sono gli Ops, orrendi per sempre E vi aspettano tutti i giorni alle 7.45 e alle 14.10 Su Rai Gulp Sono Lena Grischi Frequento la migliore scuola di danza del mondo Ho un segreto Provengo dal 1905 Il mio fidanzato Harry sta cercando di riportarmi indietro Continua la magica avventura di Lena Del suo grande sogno E del suo varco temporale Perché l'amore vissuto in epoche diverse Non sempre risulta facile Non perdete la seconda stagione di Cercami a Parigi Tutti i giorni alle 19.25 In prima visione Rai Gulp